Gentili telespettatori, buona giornata. Santori, ve lo ricordate, il leader, tra virgolette, delle sardine, si candida con il PD a Bologna. Ma sentite questa, vogliamo restare indipendenti ma vanno controllati dall'interno, quindi lui si candida per controllare il PD dall'interno, veramente tutta da ridere. Ma leggevo il titolo, solo il titolo di un giornale, non ho aperto l'articolo e Santori veniva definito un ragazzotto senza né arte né parte. In realtà è così, questo signore, che non è un ragazzotto, è un signore di oltre trent'anni, è riuscito ad arrivare alla ribalta per caso, è un politico per caso. Aveva organizzato assieme ad altri su Facebook e facendo del volantinaggio una piazza contro Salvini, perché Salvini nelle elezioni regionali a Bologna era l'unico che faceva le piazze, perché la sinistra non scendeva, non faceva, non faceva comizi, non diceva nulla perché non aveva niente da dire, come diceva il buon Zingaretti. Ma cosa andiamo a raccontare? Nelle piazze che non abbiamo niente di cui vantarci, aveva ragione Nicola Zingaretti in uno dei suoi momenti rarissimi di lucidità politica. Allora avevano organizzato una piazza vicina a quella di Salvini, tutti zitti, con un pesciolino ritagliato, tristissimo, diceva ma cosa vuol dire? Niente. Mentre Salvini parlava col comizio loro nella piazza vicino si guardavano in faccia con un pesce ritagliato, eccezionalo veramente. Questo vi fa capire che questo primordiale movimento delle sardine già non aveva nulla da dire nella prima piazza e i suoi leader tanto meno, senza né arte né parte. Leader tra virgolette, ecco, poi sono voluti essere indicati come leader. Adesso hanno sempre detto noi siamo indipendenti, trasversali, noi non siamo con nessun partito, ma era ovvio che erano persone di sinistra, deluse dalla stessa loro parte politica, che scendevano in piazza da soli perché loro, i loro politici di riferimento, non gli passava neanche per il cervelletto di andare in piazza a raccontare che cosa non si sa. E così il leader del movimento delle sardine dice i nostri candidati anche in altre città. Il nostro avversario è chiunque stia trafficando per un renzismo 2.0. Serve un presidio, altrimenti il PD sarà sotto scacco delle correnti. Quindi loro, lui si candida nel PD per controllare le correnti del PD. Incredibile. Bella questa trovata, dice ma tu non eri trasversali, ti candidi nel PD. Eh no, ma è per controllarli. Ah, è per controllarli. E così martedì a Bologna Mattia Santori presenterà la sua candidatura nel PD a sostegno di Matteo Lepore. Una scelta sua o delle sardine, chiede un giornalista alla SAR da capo. E lui dice è una mia scelta che ho condiviso nel comitato esecutivo e che rispecchia una linea nazionale che da tempo stiamo seguendo. Comitato esecutivo, linea nazionale. Ma che dice? Questi erano spariti, sono spariti? Adesso mi parla di comitato esecutivo, linea nazionale. È il momento in cui si mette la faccia e si presidia la politica nelle istituzioni. Dice a Bologna come in altre città. E allora a Milano e a Roma ci saranno candidati delle sardine? Dice ne parleremo martedì alla conferenza stampa. Posso dire che non per forza tutte le candidature saranno nel PD. Ogni situazione locale ha le sue dinamiche. Il giornalista furbacchiore dice ma non è che diventerete una nuova area del PD? Che è ovvio che è così, no? Solo delle persone satelliti al PD. E lui dice attenzione, la mia e le altre saranno candidature indipendenti. Io sono coerente con il sostegno dato alle epore durante le primarie. Il PD ha diverse facce. Quello che vogliamo sostenere è quel progetto che si chiamava Piazza Grande, la mozione dell'ex segretario Nicola Zingaretti e che ora è diventato l'Eagora. Visto che il PD si sta aprendo all'esterno, sta alle forze esterne decidere da che parte tirarlo. Di certo non è da quella dei cavalli di Troia di Matteo Renzi che hanno ampiamente inquinato gran parte del partito. il PD si sta aprendo all'esterno, ma dove l'ha visto sto film? Il PD che si sta aprendo è solo nei sogni di Mattia Santori. E poi il giornalista gli chiede ma il vostro avversario è base riformista? Dice il nostro avversario è chiunque è per il rinzismo 2.0, mentre c'è chi invece lavora da dentro e fuori per portare il PD su linee più progressiste auspicate da parecchio. Le sardine continueranno a essere indipendenti ma serve un presidio, altrimenti quando inizieranno le Agora ci troveremo un partito sotto scacco delle correnti nascoste. Le correnti nascoste. guarda Mattia Santori che non ci sono correnti nascoste nel PD, sono tutte alla luce del sole le correnti, però lui queste cose non le sa e senza né arte né parte. Invece del PD avrebbe potuto scegliere di stare dalla parte di Ellis Shane, più a sinistra, nella lista coalizione civica coraggiosa. E lui dice è stata la scelta più difficile. Sklein, come si legge, e Lepore per me sono due mentori. Ma io sono convinto che chi è civico debba mescolarsi alla politica. Per questo ho scelto di stare col PD che a Bologna parla a oltre un terzo dell'elettorato. Ecco, qui si svela tutto. Scelgo di stare col PD perché è quello che ha più possibilità, dove c'è più possibilità di elezione. Lui dice ho scelto di stare col PD perché a Bologna parla a oltre un terzo dell'elettorato. Ecco, questo è perché è il partito più grande a Bologna. Cominciamo bene, uno sceglie di stare nel partito che non che gli interessa, ma dove c'è più spazio, dove ci sono più voti. Anche il Santori sta cominciando ad ambientarsi nella politica. E poi il giornalista gli dice ma il PD allora è quello che vi aspettavate dopo la vostra occupazione finta del Nazareno? Dice il PD è quello che le persone lo popolano, vogliono che sia. Non credo nel leader solo al comando, neanche Zingaretti riuscito ad avere la forza di governare tutte le correnti, ma credo si debba dare speranza a un partito che in Emilia Romagna ci ha garantito di non avere Lucia Borgonzoni in regione e a Bologna ha dato dieci anni di buona amministrazione. E il futuro delle sardine, elezioni politiche, lui dice io spero che ad arrivare alle politiche ci sia un soggetto unico di centrosinistra che riesca a integrare una forza extra partiti in un modello ulivista. Una cosa rossa 2.0 dice no per carità un partito pluralista che non faccia differenze tra chi è un attivista delle sardine o chi è un militante del PD. Un Santori è un po' più addentro nella politica, è già un po' più a suo agio nelle risposte perché non abbiamo visto, a parte la prima risposta che lui si candida nel PD per controllare il PD da dentro, è fantastica. Però non ha detto corbellerie come di solito sentiamo, probabilmente nell'intervista le domande magari sono state preparate prima, ci ha pensato su perché a parte la prima cosa che ha detto le altre gli possiamo dare una sufficienza. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.